Ti voglio allacciare il rapporto con le associazioni che, devo dire, in questo momento, in questo nuovo periodo di lockdown, si sono un pochino allettati, per condividere con voi questa cosa è la parola che dobbiamo fare insieme per consentire le versioni del lavoro regolare. Non devo dire a voi che siete nel campo, quindi a volte di noi conoscete le esigenze, e con questo, con queste disposizioni, inserite nel posizionamento rilascio, quindi ineltenere e accompagnare la fase di ripresa economica del Paese con il momento di emergenza, queste disposizioni sono state inserite proprio per favorire le versioni del lavoro regolare e contattere un fenomeno veramente, io non so qual è quello del campo dall'alto. Per questo, praticamente, sono state, ovviamente, voi privilegiate, quando vi non parlate di alcune categorie di lavoratori, dove questa piaga, purtroppo, è particolarmente diffusa, e insieme con voi vogliamo condividere, ripeto, condividere le disposizioni che conoscete sicuramente meglio, condividere le modalità alternative e creare dei canali...